Qual è lo stato di salute dei fiumi, dei laghi, del mare, della regione Veneto? Discreto, a chiaroscuri. Comunque sostanzialmente è un quadro non preoccupante e tale da consigliare di continuare nello sforzo per vedere di arrivare finalmente a avere una qualità generale delle acque migliore di quella attuale e più aderente agli standard stabiliti della comunità europea. Questo è il prospetto fornito del progetto dell'ARPAV ISPERIA, acronimo di identificazione delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico. Una rete di 800 stazioni di rilevamento distribuite in tutta la regione ha permesso di raccogliere 160.000 misurazioni in tutto il Veneto. Di queste sono 1.600 le misure che sforano gli standard di qualità del Decreto Ministeriale 367 del 2003. A conti fatti non dà sta particolare preoccupazione la lista delle sostanze rilevate. Per cadmio, nickel, piombo e arsenico si ipotizza infatti l'origine naturale. Il cromo si è rivelato molto presente nel bacino del frattagorzone ma è collegato alle concerie della zona. Il mercurio è il dato da analizzare con più attenzione. Il numero delle rilevazioni è alto ma il ritrovamento oltre il limite di rivelabilità è occasionale. Sono risultati inattesi quelli legati all'inquinamento dovuto al settore primario che rivela come non solo le industrie ma anche l'agricoltura inquini le acque con diserbanti e pesticidi non sempre a norma. Le misurazioni hanno rilevato nei territori di coltivazione intensiva sostanze come la trazzina da tempo fuori legge. Per gli agricoltori questo ed altri prodotti potrebbero essere vecchie scorte da smaltire o frutto di acquisti illegali sul web. Un fenomeno che va represso perché è un reato vero e proprio e che è indice ancora di una non sufficiente coscienza ambientale da parte di alcuni dei coltivatori.